e partivi da qua dovevi fare 1,2,3 quel gradino di finale si fai il tuo è un po' diverso anche da come guida è un po' diverso, è un po' diverso, è un po' diverso è un po' diverso, è un po' diverso adesso lo ha preso, adesso lo fanno, guarda il decolo non capisco come cazzo si fa, giù il nuso non c'è raggiunto però così dai 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 no cambia tantissimo muso su